domani e domenica sono in programma altre due regate del West Liguria, campionato invernale per vele d'altura organizzato dallo Yacht Club Sanremo. Le immagini che vediamo si riferiscono alle regate del West Liguria di domenica scorsa, proprio davanti alla zona dei Tre Ponti e come aveva previsto Achille Pennellatore dopo una bella sventagliata del giorno prima, cioè di sabato, domenica invece il vento si era assestato intorno agli otto nodi. Nella classifica generale la overall che non tiene conto delle diverse categorie in gara, al comando si trova nera di Nicolo Zanelli del Veladoc Racing Team seguito da Melissa di Domenico D'Ambros dello Yacht Club Sanremo e al terzo posto il solito Aurora di Paolo Bonomo ancora dello Yacht Club Sanremo. Adesso mancano altre quattro regate, due weekend, le prime delle quali si terranno appunto domani e domenica. La lotta è ancora abbondantemente aperta per tutte le diverse categorie e anche per la overall, come ha dimostrato proprio la leader nera che con gli ultimi piazzamenti ha risalito la classifica sino al primo posto. In palio per tutti i partecipanti al West Liguria c'è il trofeo Grand Hotel del Mare e la regata di domani inizierà alle ore 10.55.